Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini alla voce e Matteo Rena alla parte tecnica. La decima giornata della campionato di Serie D, girone B in campo, ci sono Faiti 2004, maglia rosso-nera e Atletico Sperlonga, maglia giallobro, palla dentro, poi si chiude la difesa del Faiti, poi un rimpallo, e arriva Chinappi, palla sul palo, Chinappi va via raddoppiato, break del Faiti con Foglietta, Foglietta si accentra, Foglietta la respinta di Rosato, poi c'è Fusco, va via Foglietta, prova la combinazione, Santone, Santone, occasionissima per il Faiti, Pallone dentro, Pannozzo prova a liberarsi, arriva Marrocco, Marrocco, occasione, la deviazione di Palladini, calcio d'angolo, Saccoccio, Saccoccio prova ad andare via bloccato, però vince un rimpallo Saccoccio, e allora con la punta del piede impegna Palladini, Santone si gira, sinistro ribattuto, poi perna, prova lui, la respinta, Foglietta, che occasione fallita dal Faiti, prova il tiro in porta, ancora la parata di Rosato, Gisfreddo, Marrocco, Marrocco, prova lui, palla in rete, sfera che passa tra le gambe di Palladini, 1-0 atletico, palla smanacciata da Palladini, sul sinistro di Pannozzo, Di Trocchio, parte lui, grande parata di Palladini, sulla punizione di Di Trocchio, poi ancora lui, molto attivo, Di Trocchio, trova il gioco di gambe, poi appoggia per Fusco, Fusco, pensa al tiro, poi arriva la grande parata di Rosato su Santone, poi taglio, Chidappi in area, ancora Rosato, e Saccoccio, la deviazione, palla che finisce fuori dopo la deviazione di Cesare, forse con un braccio, infatti arriva il rosso, il pallone, lo stesso Saccoccio, Saccoccio contro Palladini, il tiro di Saccoccio, palla nel sacco, 2-0 atletico, Pannozzo, lungo per Saccoccio, prova a prolungare per Chidappi, al destro, al volo, la parata di Palladini, parte Chidappi, il tiro, palla all'incrocio, 3-0, Santone per Perna, scarica a Bonelli, prova lui, e palla in rete, accorcia le distanze, tanto arriva anche il rosso per Santone, proprio sul fischio finale, termina questa sfida sul 3-1, in favore dell'atletico Sperlonga, sul Fighti 2004, da Fabrizio Agostini e Matteo Arena, cordiale saluto a tutti voi.